Il pipistrello che non voleva essere pipistrello In una grotta buia, nascosta da grandi massi in fondo a un labirinto sotto il castello, viveva la famiglia Pepe. Una famiglia vera, con papà, mamma e figli, tutti pipistrelli neri, con ali da pipistrello e zampine da pipistrello, di quelli che di notte escono e di giorno si nascondono. Hai mai visto un pipistrello in pieno giorno? Il vecchio dotto avrebbe voluto ospitarne almeno uno in camera sua. Perché dovete sapere che un pipistrello vero è come un insetticide naturale. In una sola notte può mangiare duemila zanzare! Ma nessun pipistrello della famiglia Pepe voleva allontanarsi da quella grotta buia, dove se ne stavano comodamente appesi a testa in giù. Tutti, tranne uno. Il più piccolo, il pipistrello Pepe, non ne voleva proprio sapere di appendersi in quel modo buffo. Lui voleva essere come gli uccelli. Desiderava avere un nido tra le foglie e magari poter volare con quella capinera che se ne stava tra i rami di una quercia. Era un pipistrello che non voleva essere pipistrello. Nessun pipistrello si comporta così! Lo rimproverava la mamma Pepe. Tu devi fare come noi! Gli diceva papà Peppo.